Benvenuti su Unica Channel, subito in rete l'edizione del WebTG. Sul canale tematico Unica Sport, nuova avventura per gli appassionati di sport estremi con Beyond the Age. Su Unica Eco, politici, imprenditori e semplici cittadini parlano di sensibilità ambientale nelle eco-interviste. Lunedì 30 aprile, amici di Unica Channel, ben trovati al nostro quotidiano di informazione. Apriamo con la cronaca perché la crisi economica, il male di vivere ha provocato l'ennesima vittima. A Napoli un uomo di 56 anni perde il proprio posto di lavoro ed in preda alla disperazione si impicca all'interno della propria abitazione. Vediamo il servizio. Aveva ricevuto una lettera di licenziamento e nei prossimi mesi avrebbe anche dovuto lasciare la casa dove viveva. È questa la situazione che c'è dietro il suicidio di un portiere di un condominio del Corso Garibaldi a Napoli. L'uomo, 56 anni, si è ucciso impiccandosi nel suo appartamento. Divorziato con due figli, da tempo sembrava soffrisse di crisi depressive. Dite alla mamma che non posso più passarle l'assegno. Queste, secondo gli investigatori, le ultime parole del portiere dette al telefono con uno dei due figli che vive al nord con l'altro fratello e con la madre. Sempre secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla polizia, il 56enne si sarebbe tolto la vita sabato scorso. Ma soltanto stamattina gli inquilini del palazzo, temendo che gli fosse accaduto qualcosa, hanno chiesto l'intervento del 113 che ha fatto la scoperta. E ad Avellino un'altra vittima per la perdita del posto di lavoro. Si tratta di Gavino Becchione, 48 anni. L'uomo lavorava come guardia giurata quando, un anno e mezzo fa, una lettera gli comunicava tagli al personale, mettendolo di fronte ad una sconfitta troppo dura da superare. Si spara un colpo alla testa dopo aver scritto una lettera di scuse al padre ed alla sorella. Situazione economica resa ancora più deprimente da quelli che sono i dati Istat comunicati questa mattina che riguardano il tasso di inflazione ed il carrello della spesa. Ad aprile 2012 è stato registrato il rincaro maggiore dal marzo del 2008. Nelle sue stime provvisorie, l'Istat indica un aumento dei prezzi su base mensile dello 0,5%. Aumenta anche il carrello della spesa, del 4,7%, mentre il prezzo della benzina ad aprile fa segnare un nuovo record, più 20,8%. Come conseguenza di questi andamenti, il differenziale inflazionistico tra beni e servizi aumenta di un decimo di punto percentuale rispetto al mese di marzo. Ad aprile rincaro anno del cosiddetto carrello della spesa, cioè i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza, tra cui cibo e carburanti, è del 4,7%. Un valore superiore al tasso di inflazione, che risulta il più alto dal settembre del 2008. Il prezzo della benzina aumenta su base annua del 20%, in forte accelerazione rispetto al 18,6% di marzo, mentre su base mensile sale del 3,1%. Il rialzo tendenziale è il più alto dal gennaio del 1996. La disoccupazione in Italia nel quarto trimestre 2011 ha raggiunto il 9,7%, il tasso più alto dal 2001. Ma il tasso reale potrebbe risultare superiore, poiché ai quasi 2 milioni di disoccupati se ne aggiungono 250 mila lavoratori in CIG. Lo afferma l'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Agenzia delle Nazioni Unite, definendo nella sua scheda allarmante la situazione per quanto riguarda l'occupazione dell'Italia. Voltiamo pagina, parliamo dei viaggi, dei rifiuti campani fuori regione. La Procura di Napoli ha deciso di aprire un'inchiesta nel mirino dei PM le spese della Sapna, la società provinciale di Napoli che appunto si occupa dei trasferimenti della spazzatura in Sicilia ed in Puglia. Immondizia da esportazione, camion o colmi di spazzatura raccolta a Napoli e portata fuori dai confini della Campania. Milioni di euro spesi in regime di emergenza, contratti ed appalti firmati per fare tutto e farlo subito. Ed ecco che la Sapna, società provinciale di Napoli addetta allo smaltimento dei rifiuti, finisce sotto i riflettori della Procura, che ha aperto un'inchiesta su accordi e procedure, consentendo a Palazzo Matteotti di trasportare lontano dalla Campania e precisamente in Sicilia ed in Puglia l'immondizia prodotta dall'area metropolitana partenopea. L'ipotesi seguita dai magistrati inquirenti è di concorso e smaltimento illecito dei rifiuti. Per diverso tempo, secondo il Pulecologia che segue il caso, coordinato dal procuratore aggiunto Aldo De Chiara, le procedure di trasferimento dell'immondizia in Puglia e in Sicilia sarebbero avvenute senza gara d'appalto convocate per tempo e senza dar vita ad un protocollo ordinario in grado di rispettare tutti i riconoscimenti dell'evidenza pubblica. Siamo arrivati al momento degli esteri in Africa, nuove stragi contro i cristiani. Nel weekend si sono verificati due attentati terroristici, uno in Nigeria, l'altro in Kenya. Domenica di sangue per i cristiani in Africa. Almeno 21 morti e decine di feriti. Il primo bilancio dei due distinti attacchi, in Nigeria ed in Kenya, mentre i fedeli si apprestavano ad assistere alla messa. A Cano, a nord della Nigeria, è stato lanciato un vero e proprio assalto da parte di un gruppo di uomini armati all'interno dell'università, nei pressi di un teatro utilizzato dagli studenti cristiani per svolgere le funzioni religiose. Esplosioni e colpi d'arma da fuoco sono andati avanti per oltre 30 minuti, hanno raccontato alcuni testimoni. Polizia ed esercito hanno poi circondato l'università e stanno ancora dando la caccia al commando. L'altro attacco a Nairobi, capitale del Kenya, dove è stata lanciata una granata all'interno di una chiesa. Anche in questo caso il bilancio delle vittime e dei feriti è ancora parziale. Anche se al momento non ci sono rivendicazioni, non esistono dubbi per quanto riguarda la natura terroristica del gesto. Le autorità kenyote infatti puntano il dito indice contro gli Shabab somali, cellula terroristica che fa capo al gruppo di Al-Qaeda. I nuovi attacchi terroristici in Africa contro i cristiani sono da condannare nella maniera più decisa. È quanto dichiarato da padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa vaticana, che poi ha invitato le popolazioni locali a non cedere alla tentazione di cadere nel vortice senza uscita dell'odio omicida. La pagina dello sport calcio a tre giornate dalla fine del campionato 2011-2012 sono ben quattro le squadre di Serie A che si contendono il terzo posto, valido per accedere ai preliminari di Champions League. Appaiate a 55 punti ci sono Napoli, Inter, Lazio ed Udinese. Napoli, Udinese, Lazio ed Inter. In quattro al terzo posto. Tutto è legato agli ultimi 270 minuti che restano da giocare. Mai si era verificata nella storia del calcio italiano una simile situazione. L'assegnazione della terza piazza, che dà accesso ai preliminari di Champions League, sarà decisa dagli ultimi tre risultati o dall'esito degli scontri diretti. E in questo il Napoli è in pole position in caso di classifica avulsa, quella che tiene conto appunto degli scontri diretti. Infatti gli azzurri sono primi con 11 punti. Il Napoli, più che mai in pienissima lotta, si è rimesso in marcia conquistando 7 punti nelle ultime tre gare. Sabato a Roma sono però affiorati i rimpianti dopo il pareggio sul campo di un'avversaria nettamente in difficoltà, nervosa e per lunghi tratti arrendevole. Domani si ritorna in campo per l'anticipo della terza e ultima giornata contro il Palermo. Gli interrogativi non riguardano solo la volata Champions, ma anche quello che può accadere a fine stagione, a cominciare da Lavezzi. E proprio parlando di Lavezzi chiudiamo l'edizione di quest'oggi. Lavezzi piace ma costa troppo. Il commento di Massimo Moratti, il presidente dell'Inter, che ieri ha quindi ufficializzato il suo interessamento per l'argentino del Napoli. A frenare Moratti la clausola rescissoria del giocatore, fissata a 32 milioni di euro. Ma sul pocio, finito nelle prime pagine del calcio mercato, insistono i russi dell'Ansi e i francesi del Paris Saint-Germain. Era questa l'ultima notizia, il nostro telegiornale si conclude qui. Grazie dell'attenzione, buonasera a tutti voi.